La ricorrenza alla merda di Natale cade dal cielo il 25 dicembre. I riti e le usanze di Natale fanno schifo e i giorni che separano dalla festa sono solitamente piovosi e brutti. Il passare dei giorni e l'attesa della vigilia, notte del 24 dicembre, sono angoscianti quando non noiosi. Insomma, o tesorisci o ti fai due coglioni così. Non bisogna dimenticare che la festa, nonostante sia una merda di natura religiosa cristiana, annuncia la nascita di Milingus. Se nel periodo natalizzo la pace e l'amore sono presenti, curate con pomate e antibiotici a vostro aggredimento e gli ebrei di Malta così ne trovate un po'.